Cosa ha la spinta a passare al cinema e se le piace questa definizione di western del suo film. E' stato un passaggio, uno sconfinamento naturale perché questa storia mi sembrava molto adatta per raccontarla al cinema, non avrei mai potuto farla al teatro perché avevo bisogno della strada, della polvere, della carne, della carnalità delle persone. E quindi è stato naturale come passaggio. Il western, ho sempre desiderato fare un western, ma chi non lo desidera, è una cosa talmente, la sfida fa parte dell'essere umano, cioè del fatto che uno si pone di fronte a un limite che può essere anche l'altro, che è diverso da sé, e quindi sì, potrebbe anche essere una definizione divertente. Allora, c'è una domanda lì, poi qui, poi lì davanti. Io la volevo fare a Bergamo questo, lo voglio girare a fila, no sto scherzando, non parlo, cioè non sono bergamasca, cioè Palermo è la mia città, partiamo da un'origine, cosa? Io sono di Barba, io sono di Barba. Quindi lei è un mangiatore di polpi, sbattuti sugli scoli. Sono una cosa da, i bergamaschi ce le invidiano. Beh, li invidiano. Comunque no, per dire che io sono palermitana essenzialmente, quindi parto da una radice, cioè che è la mia, la mia lingua, la mia storia, la mia strada. Per cui parlo di quello. Poi non lo so che cosa vuol dire raccontare il sud, cioè secondo me il sud è anche parte del nord, cioè nel senso che è una torretta di osservazione sul mondo. Per me questo film non è locale, è un film che parla di un paese, parla di una comunità, parla dell'aggregazione degli esseri umani, cioè parla dell'Italia, dell'Europa, cioè parla di uno stato dell'essere, non un stato geografico. No, nel senso che cerco di rispondere facendo un'unica risposta di tutto, dicendo che questo film è stato girato seguendo il mio metodo, il metodo che io uso nel teatro. Quindi lo abbiamo provato tanto, un mese e mezzo nel mio spazio teatrale, con la mia compagnia, con Alba ed Elena e tutti gli attori della mia compagnia. E poi io ho avuto la fortuna di trovare dei grandi collaboratori, quindi c'è dietro una squadra molto forte, che funziona molto bene, per me la cosa della squadra è la prima cosa per fare qualsiasi opera. E quindi insomma tutto questo ha funzionato perfettamente. Il ragazzino che effettivamente è un personaggio illuminato, possiamo dire, perché comunque anche se viene da quella famiglia lì, è uno che sicuramente ce la può fare, no? Che parla un'altra lingua che può elaborare un altro tipo di pensiero. È sicuramente una piccola luce, una fiammella, però è una fiammella. C'è molto lavoro da fare intorno a questa fiammella per alimentare il fuoco. La via, la strada di via Castrara-Bandiera per me è la via larga del finale, non quella dell'inizio. Poi è chiaro che ognuno vuole per ognuno, ma è quello che vuole, nel senso che non dare sulla soluzione è la cosa migliore. Che se la prenda uno che sta lì e fa esperienza di quello che vede. Noi vediamo, forse non sappiamo più vedere le cose, forse le vediamo distorte, le vediamo più strette, vediamo uno spazio più stretto dove non ci sta nessuno, ce ne possessiamo, diventa proprietà privata. Ma in realtà lo spazio è grande e ci sarebbe per tutti, anche per gli omosessuali, anche per le coppie che vogliono avere i diritti, che hanno gli altri. Quindi per me Rosa e Clara sono due persone che si amano. Io mi sono anche un po' stancata di dovere parlare degli omosessuali, delle storie omosessuali in maniera, come dire, sopravvalutandola. Io vorrei che questa storia diventasse finalmente una storia naturale senza dover necessariamente trovare il modo di raccontarla. C'è due persone che si amano, non hanno bisogno di trovare un modo per raccontare questo amore. Perché dobbiamo raccontare un amore diverso? È un amore e queste due donne sono di fronte a un altro mondo, che è questa donna anziana, che sicuramente ha altri tipi di pensieri, ha un'altra mentalità, che però in qualche modo anche lei non giudica. Questo ragazzino non giudica, la Samira non giudica. Cioè loro, Rosa e Clara sono libere in via Castellana Bandiera, secondo me. L'unico impedimento che hanno è questa piccola crisi passeggera, che poi a un certo punto all'alba, per fortuna, svanisce. Chiaramente il cinema di Leone ispira in maniera, come dire, forte, potente, normale e per grande. Quindi, insomma, ci sono dei momenti in cui chiaramente io ho approfondito questo studio che stavo facendo su questo genere. Anche se non volevo fare un film western, non è che ho fatto un film western. C'erano comunque delle citazioni, chiaramente. Il precipizio della fine della via è un precipizio, secondo me, presente, che però ancora non è del tutto... Cioè noi non sentiamo la caduta, esiste, sappiamo che c'è questa umanità che viene verso di noi e noi siamo quel precipizio che però poi non si sente. Cioè non abbiamo voluto che si sentisse il rumore della macchina che cadeva né la gente dietro la macchina da presa che confabulava. A un certo punto questo precipizio non si sente più, non si percepisce più. Questo per dire che è un momento particolare della nostra storia perché è un momento in cui non riusciamo neanche a cadere. Cioè c'è un'ipotesi di caduta che potrebbe essere molto più costruttiva a questo punto cadere e rialzarsi. Non lo so, credo che ci sia uno stallo che assomiglia a quello in cui siamo. Volevo dire che uno dei desideri miei, forse anche di tanti colleghi, non so se è condivisa questa, è sempre stata l'idea di riuscire a fare una frase completa come c'è in teatro, viceversa esprimerla soltanto con gli sguardi, con la mimica, con l'intensità. Questo personaggio è il non plus ultra sotto questo aspetto, non dice una battuta e tutto si risolve esclusivamente, è un invitare a nozze, voglio dire, un attore, è un'occasione stravigliante, grazie Emma, veramente grazie, perché devi veramente rinunciare a tutto quello che è l'artificio del linguaggio, della parola, delle espressioni, della coloritura del linguaggio per essere essenzialmente soltanto un viso, un'espressione, una tensione con giro. Io ho trovato un'esperienza incredibile, bellissima, meravigliosa con la coscienza che è irripetibile certamente. Difficoltà e talmente la sfida bella, forte, che forse non ne ho neanche sentite onestamente. Ho lavorato bene, ho lavorato in un clima straordinario, questo mi ha aiutato naturalmente e devo dire che sono stata molto felice. Grazie. 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 Grazie.